La Campania resta zona rossa Covid anche dopo Pasqua. Ieri i nuovi positivi registrati in tutta la regione erano 2057 su 18.513 tamponi molecolari. Ancora molto alto il numero di sintomatici, 722, 1.355 invece gli asintomatici, circostanza che potrebbe essere dovuta anche alla diffusione della variante inglese del virus. In Campania altri 2.979 guariti, mentre sono 57 le persone decedute. Questi invece dati raccolti dall'unità di crisi della regione per l'area nord della provincia di Salerno e il comune di Sarno ad aver registrato ieri il maggior numero di persone positive, 29. 26 invece scafati, mentre Salerno conta 25 nuovi positivi. 23 contagiate a Cava dei Tirreni, 20 a Nocera Inferiore ed 11 positivi rispettivamente nei comuni di Nocera Superiore e Pagani. Castel San Giorgio e Vietri sul Mare 9, Baronissi 8, 7 invece nuovi positivi nei comuni di Mercato San Severino e Sant'Egidio del Montalbino, 4 rispettivamente a Corbare e Fisciano, 3 a San Valentino Torre ed Angri ed un solo positivo nei comuni di Rocca Piemonte, Siano, Tramonti e Positano. Complicata la situazione negli ospedali del territorio, tornano le ambulanze in fila all'esterno del pronto soccorso del Covid Hospital di Scafati. Lavoro non stop anche all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per sbarellare i pazienti dalle ambulanze in arrivo. Ieri alle 23 il pronto soccorso ospitava 12 pazienti positivi, due persone purtroppo non ce l'hanno fatta. La campagna resta quindi in zona rossa, smentendo ogni indiscrezione ipotesi basata sulle proiezioni e sull'analisi dei dati dell'ultima settimana che vedevano la regione passare in zona arancione.